Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ormai dopo 7 generazioni il numero totale di Pokémon riconosciuti dal DEX nazionale è di 802, davvero tantissimi. Immaginate anche solo di avere davanti così tanti Pokémon. Probabilmente fatichereste e non poco per trovare ogni specie o per sceglierne 6 da inserire nel team. Nonostante però questo numero sia enorme e sia destinato a crescere ancora, si spera per più tempo possibile, esiste una buona fetta di creature mai apparse nei titoli ufficiali e quindi mai riconosciute dai Pokédex. Alcune sono state inserite in alcuni spin-off come Mystery Dungeon o Pokémon Ranger, altre invece sono comparse nell'anime senza mai farvi ritorno. Di esempi ne potrei fare moltissimi, ma oggi andremo a vederne solo 5, aggiungendo delle menzioni d'onore sul finale. Ovviamente in questo video non saranno contati i Pokémon evento come Mew, Selby, Marshadow e via dicendo, dato che, per quanto rari ed impossibili da trovare, possono comunque essere ottenuti tramite l'uso di cheat, mentre per i Pokémon che andremo a visionare oggi non esiste alcuna possibilità di catturarli se non tramite Acrom o robe simili. Detto ciò non mi dilungo oltre e diamo inizio a questo video. Quest'Onix atipico è apparso nell'episodio 87 dell'anime Pokémon intitolato Il Messaggio in Bottiglia. In questo episodio Ash e la sua compagnia in viaggio per le isole Orange scoprono dell'esistenza di questo mitico Pokémon tramite un messaggio imbottigliato e decidono di partire alla ricerca di quest'Onix che, per quanto non si sappia ufficialmente il suo tipo, pare sia un Pokémon di tipo ghiaccio. È infatti resistente all'acqua e debole al fuoco, al contrario degli altri Pokémon della sua specie. Inoltre è in grado di sopravvivere tranquillamente immerso nell'acqua, cosa impensabile per un Pokémon di tipo roccia. Nonostante ciò, le uniche due mosse che sappiamo possa conoscere sono Azione e Sassata, rispettivamente di tipo normale e roccia. Su questo Pokémon abbiamo davvero poche informazioni, come già detto, ma il fatto che si trovasse su un'isola ha alimentato la teoria per quest'Onix che gli fosse nient'altro che un esempio primordiale di forma Lola, forse un esperimento per vedere la reazione dei fan. E a quanto pare sembra andato bene. Questa particolare forma di Mewtwo venne rivelata con l'uscita del gioco Pokémon per Wii U, Pokken Tournament, e fu uno dei punti di forza di questo gioco. Si tratta in sostanza di un Mewtwo dalla colorazione più scura, al quale è stato letteralmente conficcato un cristallo arancione all'interno della spalla. Così, a caso. Esso non è altro che un boss segreto all'interno del gioco stesso, sbloccabile però dal giocatore tramite una serie di achievement e cast varie. Anche sull'origine di questo Pokémon si sa poco o nulla, pare però che abbia una particolare relazione con una misteriosa ragazzina all'interno del gioco. Come ogni Mewtwo è in grado di mega evolversi, e all'interno del gioco lo farà solo quando si attiverà il suo status speciale. Inoltre, per quanto il combattimento di Pokken sia particolare, questo Pokémon conosce la mossa Psiconda, Tuono Pugno, Gelo Pugno e Fuoco Pugno. Questo Mewtwo è anche, all'interno di questa classifica, il Pokémon più recente venuto alla luce. Ok, lo so, questo Pokémon è il partner che tutti hanno in Pokémon Ranger tracce di luce, quindi tecnicamente lo si potrebbe ottenere, ma nei titoli principali è un Pokémon impossibile da trovare. Inoltre, in questo spin-off, le catture funzionano in modo diverso, le battaglie assumono tutt'altra forma. Insomma, la sua peculiarità, andando avanti col discorso, come forse avrete notato, è che questo Pichu è in grado di portare, o meglio, porta con sé un ukulele, che è uno strumento musicale hawaiano a quattro corde, simile ad una chitarra. Sembra si tratti di un Pichu diverso dagli altri, perché all'interno del gioco presenta alcune caratteristiche, tutte sue, che lo distinguono totalmente dagli altri Pichu. È infatti in grado di aiutare il Ranger nella cattura di un Pokémon, suonando il suo ukulele e rendendo di fatto più saldo il legame che l'allenatore può stabilire con il selvatico di turno. Questa peculiarità si andrà rafforzando con l'avanzare della trama, e non si riproporrà in nessun altro Pichu ukulele, ottenibile in ogni caso solo con bughe e trucchi vari. Nonostante questo Pokémon non sia ottenibile nei giochi principali, ha fatto però due apparizioni particolari, rispettivamente nell'anime e nel manga dedicato a Pokémon Ranger. Un'altra leggenda secolare del mondo Pokémon. Per questo Pokémon sono stati creati miriadi di Akrom e sviluppati altrettanti metodi controversi per ottenerlo, ma la verità è che rimarrà per sempre relegato in Pokémon XD Tempesta Oscura. Per capire la sua storia dobbiamo fare un breve riassunto del gioco. Insomma, molto velocemente, c'è un'organizzazione malvagia che punta a corrompere i Pokémon, creando queste cosiddette forme ombra purificabili tramite varie procedure dopo la cattura, simili per certi versi a quelle per aumentare la felicità di un Pokémon normale nei classici RPG. Ciò che contrandistingue però questo Lugia è proprio il fatto che sia impurificabile, almeno con le procedure tradizionali. Ad ogni modo, come ogni Pokémon ombra, Shadow Lugia è stato privato delle emozioni, diventando una macchina da guerra spietata, pronta ad attaccare tutto e tutti. Nonostante questo Pokémon non sia mai appartenuto ufficialmente ad un allenatore, viene richiamato alla lotta da Malvaro, il capo dell'organizzazione Malvagia Crypto. In questo video è l'unico Pokémon che ha avuto una sottospecie di allenatore tradizionale. La particolarità di questo Pokémon è che sembra essere una versione invertita di Lugia normale, con i colori scambiati letteralmente di posto e più scuri del solito. Sì, tra questi Pokémon va di moda l'oscurità a quanto pare, e di algo scuro ne è la controprova. Questo Pokémon rappresenta il boss finale di Pokémon Mystery Dungeon, esploratori del tempo, oscurità e cielo. La trama dietro a questo Pokémon è complicatissima e non ve la starò a spiegare. Sta di fatto che Dialga, a causa dei furti, degli ingranaggi del tempo, viene condotto ad uno stato primordiale, dove si rivela totalmente incapace di ragionare, preso dalla pazzia e dall'istinto di autoconservazione. In realtà di questo Pokémon esistono due versioni, in quanto nel gioco esistono più lassi temporali e, insomma, è tutto un bordello assurdo. Come per Pichu Kulele, ha avuto un paio di apparizioni più che secondarie nell'anime ed è uno dei principali antagonisti nel manga dedicato a Pokémon Mystery Dungeon, il cui finale è molto simile a quello del gioco. Nota interessante per quanto riguarda questo Pokémon è che potrebbe essere un buon candidato per un futuro nei giochi Pokémon principali. Infatti, essendo una forma primordiale di Dialga, potrebbe essere ripreso come un archeo risveglio di questo Pokémon in un remake di Diamante e Perla ipotetico. Vi piacerebbe averlo nel vostro team? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Come detto all'inizio video, ci sono alcuni Pokémon secondari che comunque non potrete ottenere. Sto parlando di Venus Toys, che in realtà appare nell'anime come semplice illusione, quindi non potrebbe essere considerato nemmeno poi così tanto Pokémon. Sto parlando però anche del cucciolo di Lugia che appare nell'anime. Ovviamente Lugia è un Pokémon che nel gioco non può fare uova e di conseguenza questo Pokémon sarà del tutto inottenibile. E un'altra categoria di Pokémon molto particolari sono i Pokémon rosa che sono presenti in un'isola delle isole orange, che si possono vedere durante l'anime e che sono ottenibili soltanto in alcune acrom che trattano appunto l'avventura di Ash all'interno di queste isole. Con quest'ultimo aggiunto al video io ho concluso qui, spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento qui sotto e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando passate dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella qui sotto per ricevere i feed che YouTube decide di mandare quando stracazzo c'ha voglia. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video! Grazie! 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 Grazie!